buonasera a tutti piacere di avervi qui anche questa sera i nostri webinar dell'associazione italiana sviluppo marketing io sono massimo giordani ho il piacere di essere il presidente di questa associazione come sapete vedo che ci sono persone che hanno già partecipato a molti eventi precedenti quindi mi fa piacere e questa sera cambiamo un po il format cambiamo il format in che senso non avremo un intervento come dire cattedratico ma avremo un intervista e questa intervista sarà non con uno va ben con due ospiti e avremo nicoletta galli cristiano castellini dell'azienda WMD Italia e si presenteranno benissimo da soli però vi anticipo solo alcune cose che ritengo importanti sottolineare che spiegano il motivo per cui ho avuto il piacere di invitarli a questo webinar WMD Italia è un'azienda industriale del settore chimico ed è un'azienda che ha la sede proprio nei pressi della prima zona rossa della Lombardia e quindi potete innavere la situazione di un'azienda che nel mese di febbraio e poi via via sempre peggio marzo ed aprile si è ritrovata ad affrontare una situazione ovviamente senza precedenti anomala del tutto anomala del tutto imprevista e imprevedibile eppure loro oggi ci racconteranno come hanno vissuto questa esperienza e ci racconteranno anche cosa hanno fatto per superare questi mesi così difficili questo mi dà il pretesto per dire per citare il grande taler che ha pubblicato un libro sulla antifragilità ecco la WMD Italia mi dà proprio la rappresentazione la plastica rappresentazione del concetto di antifragilità cioè la capacità di saper adattare il proprio comportamento e traendone anzi beneficio da una situazione potenzialmente drammatica ma io non sto a dirvi altro perché inizierei subito con le domande non prima di una breve rappresentazione da parte vostra prego Nicoletta vuoi iniziare tu giustamente iniziamo col gentil sesto buonasera a tutti sono Nicoletta Galvi e sono il direttore commerciale di WMD e sono onoratissima di essere questa sera davanti a questo pubblico a parlare con tutti voi anche un po' emozionato dire la verità sono il manager sempre nel settore vendito di WMD lavoro a stretto contatto quotidianamente con Nicoletta e emozione guarda più che emozionato diciamo che sono veramente voglioso di condividere quella che è l'esperienza industriale di una realtà italiana che ha vissuto dei momenti veramente di cambio repentino di abitudini e quindi è bello magari anche liberatorio condividere determinate esperienze con le persone nuove che ci stanno ad ascoltare grazie ma entrerei proprio nel vivo della questione perché ho anticipato che avete una sede all'interno proprio del del perimetro critico della della zona rossa come avete affrontato questa situazione questa emergenza che ha colpito il vostro territorio per prima quindi è stata veramente una sorpresa brutta sorpresa quotidiana scoprire che di giorno in giorno le cose diventavano sempre più ingestibili ecco che cosa è successo in quei giorni da voi guarda le cose stanno come dici tu forse anche un po' peggio nel senso che faccio un piccolo un piccolo preambolo noi abbiamo traslocato la sede dell'azienda proprio nel periodo natale con mille propositi positivi per crescere sul mercato investendo capitali non indifferenti per aumentare la nostra capacità produttiva ci siamo trovati all'inizio proprio di questa fase di lockdown limitato diciamo la nostra zona che è la zona di cremona del cremasco ci siamo trovati bloccati già nella nostra nel nostro trasloco analmente ancora non sentivamo a livello commerciale a livello di mercato delle grosse ripercussioni ad oggi dopo x mesi abbiamo un polo produttivo che è rimasto in un'altra zona molto colpita che è la bergamasca da dove arriviamo come come realtà proprio industriale e siamo e siamo traslocati nella zona del cremasco che è l'altro polo che all'inizio hanno subito chiuso è stato un susseguirsi di eventi molto repentini imprevedibili veramente imprevedibili ogni giorno in base a quelle che erano le analisi fatte dal ministero della sanità dai sindaci locali chiudevano ulteriori quindi anche i trasporti banalmente si erano fermati i corrieri i nostri i nostri collaboratori esterni che ci aiutavano nel trasloco si erano fermati chi doveva montarci l'intente del gas si è fermato si è fermato tutto ma grazie a dio il polo di polo produttivo le linee produttive sono rimaste attive quindi tutto chiedo scusa ma oltretutto la vostra azienda si è ritrovata con uno stabilimento nuovo che non era completo e quindi gli uffici in uno stabilimento vuoto e le linee produttive a 30 chilometri di distanza volevo inserirmi anche in quello che diceva appunto cristiano nel senso che all'inizio forse siamo sembrati quasi noi troppo attenti a una situazione che sembrava comunque lontana perché all'inizio la situazione era in cina non c'erano ancora grosse preoccupazioni in italia noi stavamo per partire dovevamo partire per una fiera importante internazionale a colonia e subito abbiamo capito che c'era qualcosa che non che andava c'era una situazione di tensione e prima ancora che che diciamo che la fiera decidesse di chiudere di chiudere la manifestazione noi tempestivamente avevamo già agito affinché la nostra azienda non si recasse in una situazione di pericolo quindi siamo stati assolutamente tempestivi forse per qualcuno all'inizio ripeto esagerati perché sembrava che il problema fosse solo appunto intorno alla nostra alla nostro paese di sede no qualche caso e tutto invece nel giro di pochissimi giorni la situazione ha iniziato ad allargarsi e fortunatamente la nostra azione di massima attenzione ha permesso ha permesso l'azienda di contenere quelli che potevano essere dei rischi maggiori assolutamente sì diciamo che avete avete veramente trovato vi siete trovati a metà del guado perché ovviamente non avete potuto né tornare indietro né finire quello che era tutto il lavoro necessario per l'attivazione dell'impianto ecco ma quindi a questo punto quando poi c'è stato proprio il blocco delle attività produttive voi eravate esonerati perché? Allora noi più che altro era una situazione un po' particolare perché ripeto le chiusure avvenivano per comuni il nostro comune fortunatamente continuava a essere un comune diciamo libero nelle nelle movimentazioni quindi noi avevamo il blocco per esempio un chilometro dalla nostra sede ok noi in realtà abbiamo continuato a recarci al lavoro l'azienda ha da subito attivato tutti i sistemi di sicurezza e di protezione quindi abbiamo iniziato appunto ad evitare che clienti venissero nella nostra sede e noi ad andare presto la sede alle visite di Cristiano passa molto del suo tempo appunto presto la clientela più importante abbiamo ecco anticipato noi stessi un po' questo diciamo questo lockdown abbiamo iniziato a preferire altri tipi di rapporto magari appunto uno del passato via Skype o altri sistemi per evitare di di entrare in contatto con un virus di cui non capivamo neanche bene come come fosse il sistema di trasmissione quindi devo dire che in questo anche il sindaco è stato il nostro sindaco è stato estremamente presente lo ringrazio perché ci aggiornava tempestivamente su tutto ciò che avveniva su nel nostro territorio pensate che all'inizio eravamo visti un po come dei marziani nel senso che quando raccontavamo a nostri partner commerciali a nostri clienti ai nostri distributori ai nostri fornitori italiani magari del centro Italia o del sud Italia o stranieri quello che stava capitando nella nostra zona ci tenevano tutti un po' increduli perché la bomba non era ancora veramente così tanto scoppiata come ha detto Nicoletta quello che ha unito molto le aziende del nostro settore è stata la manifestazione di Colonia perché è partito subito un tam tam tra aziende concorrenti anche ma che giustamente volevano vivere la fiera come un momento di opportunità commerciale ma che si sono trovati davanti a un video dopo aver indestito parecchi soldi partiamo o non partiamo perché o partiamo tutti o non parte nessuno e l'idea è stata subito quella di non partire nessuno perché era impraticabile e i tempi si volava si viaggiava viaggiato il mese il weekend prima del lockdown in portogallo a un distributore e pensate che sono partito tranquillo come se non fosse tornando a portogallo sono stato fermato mi hanno risolato la febbre ragazzi cosa sta succedendo sono partito venerdì e domenica quindi è stato veramente tutto molto 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 veloce e la cosa bella che chiedo scusa mi avete raccontato che i tedeschi la fiera di Colonia fino all'ultimo volevano comunque organizzarla per cui è stato veramente un punto meno l'evento che credetemi comporta un investimento economico di decine di migliaia di euro ha bloccato l'evento due giorni prima della partenza dell'evento è la fiera internazionale dell'attivamento più importante quindi potete capire è biennale quindi c'è proprio il mondo che si sposta per venire a Colonia e c'è stata da parte dell'associazione industriale italiana da parte proprio di un collegamento linkedin che Nicoletta è stata bravissima nel creare tra proprietari di aziende direttori commerciali uniti nello scrivere alla lente fiera ragazzi ma cosa sta succedendo e la cosa buffa da un lato lo dico ma non era molto buffa che il loro pensiero è stato solo quello di dire no ma i cinesi non vengono non il loro polo è stato chiuso non vengono i padiglioni sono chiusi non possono viaggiare peccato che arrivavano serenamente in Germania tramite altri voli facevano un pechino Londra Londra Polonia quindi c'era ancora tutta la situazione a livello mondiale veramente di poca chiarezza che ha evidenziato secondo me la capacità dell'imprenditore italiano di prendere in mano la situazione prima che lo facesse un'istituzione non voglio passare a un discorso che comporta la politica ci mancherebbe non è da me ma è da me evidenziare quanto gli imprenditori italiani quando il momento sono veramente capaci di fare la differenza ma veramente prima che scoppiassi dell'Irrio che è scoppiato chiaro quindi diciamo siamo arrivati a fine febbraio no a questo punto per cui avete avete annullato la fiera avete cercato di proseguire le vostre attività però a questo punto avete capito che la situazione stava precipitando quindi su quali fattori di cambiamento industriale avete lavorato proprio nello specifico per tentare di adattarvi ai cambiamenti che stavano accadendo giorno per giorno ma diciamo che noi abbiamo capito da subito e dovevamo concentrare le nostre produzioni sulla parte dei prodotti igienizzanti e di pulizia ecco diciamo scusa diciamo quali sono i vostri prodotti macro noi abbiamo già una linea che era standard con un igienizzante ambiente un igienizzante che serve per igienizzare le stanze e gli ambienti un igienizzante monouso che si utilizza per gli abitacoli delle auto o gli uffici l'alcol isopropilico spray che è il classico prodotto oggi con cui vai a igienizzare qualsiasi tipo di superficie oltre all'alcol etilico denaturato classico da ferramenta quindi avevamo la nostra linea di prodotti quello che abbiamo fatto è stato quello di capire subito che la necessità non solo l'interesse sarebbe stato su questi prodotti quindi abbiamo concentrato la produzione che normalmente è fatta su 300 e più articoli abbiamo concentrato la produzione su questi articoli abbiamo implementato e ampliato la gamma inserendo anche un igienizzante verso i suoi sud e andando ad ampliare anche la parte della detergenza liquida quindi abbiamo tempestivamente diciamo diretto le nostre forze i nostri sforzi verso questa linea credo che siamo stati anche abbastanza attenti e bravi nel poi assicurarci che anche la filiera dei nostri fornitori ci supportasse in questa virata perché ovviamente poi il problema era anche trovare le materie prime trovare i fornitori aperti e disponibili ecco perché quando a un certo punto hanno iniziato a chiudere tutti il problema era che potessero chiudere anche i fornitori strategici per noi fortunatamente facendo parte del gruppo d'or ma la parte delle materie prime non è mai mancata quindi siamo riusciti a ripeto a concentrare tutti gli sforzi su questi prodotti ed è quello che continuiamo a fare adesso finalmente la riapertura poi del nostro settore quindi la riapertura del settore ferramenta adesso sta riportando a una richiesta anche tutti quei prodotti che erano rimasti un pochino e secondo secondo piano ovviamente abbiamo passato due mesi praticamente concentrando le nostre la nostra attenzione solo sulla gamma degli igienizzanti ripeto andando ad ampliare e completare una gamma che avevamo già ma ovviamente oggi ecco la cosa il primo diciamo il primo messaggio di capacità di adattamento che avete che avete dimostrato è proprio nello spostare proprio la produzione da centinaia di prodotti che nessuno chiedeva più perché sono venuti mancare i canali distributivi su quei pochissimi prodotti che prima erano credo marginali rispetto alla globalità della produzione competitiva questi prodotti avete avuto la rapidità di riprodurli in quantità tali da compensare quelli che poi non si vendevano più è corretto no correttissimo guarda è corretto sono prodotti che fino a tre mesi fa costituivano una piccola percentuale della nostra produzione erano più che altro prodotti destinati magari al settore ufficio ecco più che è un settore industriale o della ferramenta o del colorificio e oggi invece sono prodotti che servono a tutti a tutti vuol dire all'industria al colorificio alla ferramenta all'utente finale al negoziante servono sono utili il problema quale stato è stato quello problema che per noi è stata un'opportunità ecco anche di una grande sfida di metterci in gioco e di cambiare quelle che erano le nostre abitudini non solo produttivi ma anche nella vendita lo stile di vendita focalizzato su referenze completamente diverse che andavano settori dell'automotive dell'industria su prodotti una volta marginali oggi strategici ecco questo mi viene mi viene chiedo scusa ma mi viene questa riflessione perché chi non è addentro a queste dinamiche industriali ha una visione abbastanza monolitica dell'industria no ci sono linee di produzione c'è la filiera di dei fornitori distribuzione cioè non pensi è una cosa che si cambia così da un giorno all'altro e invece voi siete riusciti a fare esattamente questo guarda siamo riusciti è stato bello e ha creato anche a livello dell'azienda una dimostrazione di coraggio da un fatto e di forte empatia tra le persone perché perché ci siamo seduti a un tavolo e abbiamo preso una decisione grazie a dio è stata una decisione che ci ha portato a rimanere sempre aperti a non mettere nessuno in cassa integrazione nessun dipendente a casa ovviamente abbiamo tutelato tutti i dipendenti proponendo lo smart working tutte le forme di tutela possibili e immaginabili poi lo dico ridendo ma chi lavora nel settore della chimica questi aspetti li comprende in considerazione 12 mesi su 12 mascherine quant'altro noi lavoriamo con delle mascherine che sono veramente altre che le mascherine chirurgiche o quant'altro quindi la cosa bella è stata lo spirito aziendale quello di dire bene allora siamo i dipendenti l'azienda è aperta dobbiamo assicurare il nostro futuro evitiamo fuori dall'azienda vite permettetemi dire pericolose comportamenti non adeguati facciamo veramente casa e lavoro è stata una bella dimostrazione di maturità da parte di tutti i dipendenti è chiaro e qui toccate chiedo scusa ma devo devo prendere la palla al balzo perché hai toccato quello che è il fattore umano che a me sta sempre molto molto a cuore perché qualunque azienda per quanto valida per quanto faccia prodotti meravigliosi se poi non ha una serie di dipendenti di persone di management tutti insieme che lavorano che remano nella stessa direzione comunque quell'azienda non è destinata a fare molta strada evidentemente invece voi avete questo tipo avete avuto questo tipo di capacità proprio di collegarvi di entrare in sintonia in questo contesto così difficile abbiamo visto tanti scioperi abbiamo visto proteste non in questi mesi ecco da voi queste cose non sono accadute giusto no no assolutamente devo dire che sia l'azienda da subito ripeto ha tutelato i dipendenti ha aperto un'assicurazione proprio per il covite per tutti i dipendenti ha incentivato lo smart working per tutte quelle per tutti quegli uffici in cui era possibile perché ovvio che invece la parte produttiva ovviamente non ha potuto fare in questo modo ma tutti gli altri l'hanno fatto e dall'altra parte c'è stata da parte di tutti i dipendenti la massima disponibilità collaborazione volontà di di impegnarsi di capire che se stavamo uniti potevamo superare anche questa situazione in maniera diversa sarebbe stato il disastro poi il disastro per tutti perché poi non è che perde il lavoro uno se l'azienda va male il problema noi siamo una trentina di dipendenti è un'azienda estremamente formata da un personale giovane tutti sotto i 50 quindi sono uno dei più anziani dell'azienda quindi siamo un'azienda giovane fortunatamente secondo me questo ci ha aiutato nel senso che dinamica giovane flessibile e ci siamo seduti ripeto intorno a un tavolo e immediatamente abbiamo preso certe decisioni forse questa flessibilità è quello che ci ha aiutato in questo momento ecco adesso siamo nella fase 2 no la mitica fase 2 che comunque una fase chiaramente transitoria non sappiamo bene quanto durerà però certamente una fase più o meno lunga ma transitoria guardiamo un attimo la fase 3 quando effettivamente in teoria si riaprano tutte le frontiere non solo tra le regioni ma anche tra gli stati eccetera ecco voi come vedete lo sviluppo del mercato in questa fase che sicuramente vedrà una crisi globale importante speriamo non catastrofica ma sicuramente importante ecco voi come vi collocate qual è il vostro punto di vista e la vostra strategia per la fase 3 ma diciamo che allora anticipo una cosa nel senso che noi esportiamo 54 paesi nel mondo la situazione che si è creata in questo ultimo diciamo a trimestre l'italia appunto tolta la cina l'italia è stato il paese che ha iniziato ad avere la crisi inizialmente no gli altri sono arrivati dopo quindi anche le nostre vendite all'estero i nostri distributori esteri anzi all'inizio hanno cercato di capire se ci fossero problemi per evadere le consegne tutto dopodiché hanno avuto anche loro l'intelligenza di capire e noi suggerirgli di fare anche loro scorta di prodotti igienizzati quindi non solo quello che acquistavano abitualmente ma di porre anche loro l'attenzione nel loro mercato su questa linea di prodotti perché sicuramente in un modo o nell'altro sarebbero sarebbe arrivata questa necessità anche da loro ecco e così è stato noi abbiamo una consociata in spagna quindi abbiamo la WMD in spagna e la WMD spagna appunto è arrivata subito dopo in maniera anche loro abbastanza pesante e quindi voglio dire fortunatamente questa situazione non avvenendo contemporaneamente su tutti ci ha permesso di continuare a in realtà a non avere le frontiere chiuse lavorativamente parlando oggi abbiamo le frontiere chiuse dobbiamo andare in vacanza ma lavorativamente parlando i trasporti non sono mai stati fermi abbiamo avuto qualche problema con Sud America perché ovviamente lì il trasporto andando via mare ci sono un pochino allungati i tempi di evasione ma altrimenti non abbiamo avuto frontiere chiuse in questo senso purtroppo abbiamo avuto le frontiere chiuse per tutto ciò che è di piacevole quindi tutto quello che è il viaggio e il movimento più più personale che non lavorativo dice bene Nicoletta una delle fortune da un lato è stata proprio quella che è stato un susseguirsi di reazioni da parte dei paesi stranieri e di strategie diverse da parte dei paesi stranieri questo ha permesso di riuscire a gestire le richieste dei nostri distributori non ci sono mai state nette chiusure per carità ci sono paesi che hanno deciso magari di ridurre le importazioni o non esportare per rassicurare al proprio interno la presenza di scorte e quant'altro di materie prime o di qualsiasi altro tipo di bene però il mercato è semplicemente cambiato non si è fermato questa parola io la ripeto spesso perché secondo me è quello che fa la differenza il cambiamento e non radicare le proprie abitudini su quello che è stato fino a ieri perché il mondo può veramente cambiare alla velocità della luce fino a qualche mese fa sembrava il canonico modo di dire o soprattutto un modo di vedere il mondo veramente con distanze temporali molto più lunghe oggi è bastata con tutto il rispetto una pandemia a livello mondiale per farci capire quanto siamo piccoli davanti a determinate cose e quindi o impariamo a cambiare le nostre abitudini non solo quotidiane ma proprio lavorative nell'interpretare il lavoro o rischiamo di trovarci in grosse difficoltà di trovarci per terra perché perché ha dimostrato questa situazione quanto le imprese italiane ma dalle più piccole dall'artigiano alla grossa impresa vivono di fatturato mensile non si vive più di soldi accantonati di investimenti se questo può succedere alle multinazionali ma la realtà in venditoriale media italiana vive di fatturato mensile bastano due o tre mesi e un'azienda italiana è in ginocchio quindi imparare a cambiare prima di tutto la nostra mentalità è quello che può fare la differenza e a volte si impara sulla propria pelle a volte può essere un'intuizione a volte una causa di forza maggiore però oggi è diventato quasi un rischio il rischio imprenditoriale una volta era avere un'idea nuova e metterla in pratica oggi è cambiare rotta nel giro veramente di una settimana utilizzando poi tutti gli strumenti che Massimo ci sta insegnando a ottimizzare la rete dei social, il web, il nostro sito internet una comunicazione che va al di là del rapporto vis-à-vis con il cliente che secondo me è sempre vicente però oggi la tecnologia ci ha dimostrato come raggiungerlo nel modo alternativo senza fermare il business anzi questi strumenti mi hanno permesso personalmente di creare un'empatia con clienti storici che prima non esisteva perché era un momento di difficoltà tra colleghi di pari ruolo, pari grado di aziende diverse si vive lo stesso dramma e ci si deve aiutare ci si deve aiutare assicurando prodotto, assicurando delle risposte assicurando la presenza della tua azienda ecco qui avete toccato un tema che ovviamente mi sta particolarmente a cuore e professionalmente e come Aism che è quello del marketing e quindi anche degli strumenti che il marketing utilizza per poter essere applicato concretamente in un'economia come quella attuale qualcuno dice che siamo nella low touch economy quindi l'economia dove i contatti ormai sono veramente ridotti al minimo è chiaro che tutto ciò che è digitale, tutto ciò che è online non può che esprimersi al massimo delle sue potenzialità ecco nel vostro caso specifico penso alla rete vendita come si è comportata in questa situazione di lockdown e di proprio low touch economy al massimo livello? ma loro forse più di tanti altri hanno dovuto veramente reinventarsi c'è chi ci è riuscito e c'è chi non ci è riuscito nel senso che il lavoro del venditore è proprio ancora un lavoro fatto molto di persona dove c'è la visita, dove c'è la vendita, dove c'è la discussione, dove c'è la trattativa aver fermato questo rapporto, questo incontro ha veramente messo in difficoltà all'inizio perché per tutto va bene, non si stavano bene neanche i tempi quindi non capivi all'inizio se, boh ma siamo fermi cosa, una settimana come i figli a scuola, non andavano a scuola, sembrava vacanza all'inizio e dopo ti sei accorto che non era una vacanza quindi o trovavi il modo di reagire, ripeto, di capire quali erano le opportunità che ti si creavano oppure non fatturavi, quindi io lo vedo tra i miei agenti ma suppongo che la stessa cosa possa dirsi di tanti altri venditori loro hanno dovuto imparare a fare il mestiere in un altro modo c'è chi secondo me ci è riuscito in maniera egregia c'è chi ancora forse non l'ha capito, c'è chi lo capirà, c'è chi non lo capirà mai ma questo credo che in qualsiasi lavoro sia così voglio dire però oggi magari ecco si usa un whatsapp oggi un medio whatsapp molte più magari telefonate, messaggi vocali, videochiamate questo hanno sostituito comunque quello che prima era una visita del negozio ecco questo quindi è un secondo messaggio che possiamo dare in questo webinar a tutte le aziende attenzione perché anche in un settore B2B anche in un settore molto hardware quindi molto fisico come quello vostro in realtà gli strumenti digitali e tutto ciò che è la comunicazione i social eccetera svolgono un ruolo importante assolutamente sì perché ripeto hanno dovuto sostituire quello che era il rapporto umano della visita e quindi hanno dovuto usare tutti gli strumenti che avevano dai social magari appunto collegandosi con clienti prima tenevano i social come una cosa solo che era il loro privato invece adesso il social è diventato quindi i loro profili social sono diventati profili di lavoro che fossero su una piattaforma come LinkedIn o una piattaforma più easy come Facebook ecco quindi hanno imparato anche loro abbiamo imparato tutti a verità io in primis a utilizzare il social in un modo nuovo anche a mettersi un pochino forse più a nudo perché poi è come aprire le porte di casa certe volte aprire la tua pagina e quindi ecco ma secondo voi secondo voi questa è una come dire una riflessione più che una domanda io credo che se dobbiamo cogliere qualcosa di positivo in una situazione molto negativa tra queste cose positive c'è sicuramente un incremento dell'efficienza cioè abbiamo imparato che per vedersi mezz'ora non è necessario farsi magari due ore di treno o di macchina o di spostamenti inutili che peraltro inquinano e costano un sacco di soldi ecco secondo voi questo tipo di cambiamento nel vostro settore nella vostra azienda e con i vostri distributori potrà essere un cambiamento che durerà o secondo voi torneremo esattamente come eravamo tre mesi fa? Allora sicuramente durerà si ritornerà anche ovviamente a un maggiore numero di visite che comunque creano un'empatia che secondo me è unica è chiaro che le aziende hanno capito anche quanto quando si parla di efficienza si vada a risparmiare e portare comunque a casa un risultato quindi l'azienda spende meno proprio costi benzina e tutto quello che ne consegue e utilizza degli strumenti che io chiamo dei servizi cioè come prendo un treno, un aereo per andare da un cliente è chiaro che mi posso fare una telefonata su Skype una telefonata col telefono più lunga di quella che è l'abitudine la cosa bella è che questi servizi vanno al di là dell'età delle persone vanno al di là dell'età e delle abitudini che le persone hanno avuto fino a ieri sono servizi chiunque di noi li può usare è chiaro che ti ripeto lo scoglio è solo la voglia di cambiare le proprie abitudini perché davanti a dei risultati quando io e il responsabile dell'ufficio di acquisti di un'azienda che è a 400 km da me ci facciamo sei telefonate e io fatturo lui compra, dà un servizio e rivende a sua volta è chiaro che la settima volta che ci sentiamo ridendo diciamo no ma ancora ti sento più di mia moglie ma anche questo fa parte di un'empatia che prima poteva crearsi dopo x appuntamenti più formali poi sempre meno formali quindi sono tutti strumenti che la tecnologia ci offre vanno usati tutti a seconda della situazione oggi la tecnologia è vincente rispetto ad altro perché in un momento in cui non ci si può muovere o chiudiamo o usiamo la tecnologia anche più resti e fino a ieri ci chiedevano mi fai avere il catalogo oggi ti ho dimostrato che il catalogo non serve a niente perché sono tre mesi che sei a casa il catalogo la cliente non lo puoi portare usa il nostro sito usa un vocale usa l'app usa tutto quello che VMD ti dà se vuoi veramente vendere se non vuoi vendere vuoi rimanere radicato alle vecchie abitudini che possono comunque essere vincenti con un certo tipo di clientela oggi rischi di non vendere niente perché non puoi andare da nessuno io su questo mi arrabbio sempre perché odio lo scontro generazionale odio lo scontro sugli strumenti da usare io dico solo a seconda del tuo interlocutore usa quello che oggi è più efficace e più vincente come dice Nicoletta questo comporta da parte di alcune figure aziendali è vero di avere magari meno tempo perché il telefono ti squilla dal mattino alla sera apri la porta della tua casa usi strumenti che ritenevi privati ma ti togli anche belle soddisfazioni che danno tanto anche al rapporto umano perché comunque dopo questa storia quello che rimarrà tra le persone che l'hanno condivisa è il ricordo di un momento talmente drammatico che ha rafforzato tutti rapporti umani compresi questo è quello che penso devo dire e lo dico veramente con grande sincerità che il vostro spirito il modo con cui raccontate la vostra azienda la vostra esperienza mi piacerebbe fosse visto indifferita quando lo pubblicheremo in rete da molte aziende da molti manager e imprenditori perché avete un approccio estremamente positivo in questo momento così difficile siccome siamo bombardati da situazioni disastrose da messaggi negativi poter vedere, toccare con mano come un'azienda come la vostra sia riuscita fino ad oggi ma direi che il peggio dovrebbe essere passato quindi siamo fiduciosi quindi diciamo che la strada dovrebbe essere in qualche modo in discesa dal punto di vista sanitario no, certamente non dal punto di vista economico però se siete arrivati fin qua con questo spirito io credo che veramente siete un esempio positivo per le altre aziende per il mercato ma mi piacerebbe ci fosse magari qualche domanda qualche richiesta di approfondimento da parte dei nostri spettatori c'è qualcuno che vuole intervenire? tra l'altro vedo e qui gli faccio un'imboscata ma me lo permetto perché è un amico vedo un top manager di una multinazionale del settore chimico quindi vedo che ha già attivato il microfono e ha capito che mi riferivo a lui Silvano vuoi manifestarti? sì mi presento buonasera a tutti ciao Cristiano io sono della Petronas quindi voi conoscerete Petronas conoscete Arex e devo dire che vi ho ascoltato e vi faccio veramente i complimenti perché poi in questo ambito dobbiamo essere tutti amici tutti dalla stessa parte e chiaramente Petronas io lavoro in un altro ambito soprattutto su altri mercati però devo dire che in grande voi in piccolo abbiamo tutti dovuto far veramente squadra e comunque stiamo ancora lavorando e ci stiamo chiedendo tutti come sarà la fase 2 come sarà il post covid noi ci chiediamo come sarà il new normal è vero e poi Cristiano una riflessione proprio alla domanda che Massimo faceva no? e diceva ma come sarà l'ambito commerciale io lavoro molto nell'ambito commerciale chiaramente noi abbiamo iniziato a fare webinar abbiamo fatto parlavo con Massimo quasi dei broadcast in Cina dove riuscivamo addirittura a vendere pensate in Cina si vende via WeChat dove addirittura ricevevamo gli ordini addirittura ai pagamenti via WeChat pagamenti anticipati cioè incredibile fino all'altro livello la tecnologia va avanti dall'altra parte quindi sicuramente moltissima efficienza però poi ognuno per il suo settore sicuramente le visite Massimo in certe industrie a visitare i clienti soprattutto visitare i magazzini e così via saranno sempre importanti cioè ci sarà un bilanciamento diciamo così concordo grazie Silvano per il tuo intervento mi ha fatto un porto di piacere un'azienda come la tua presente questa sera veramente gratificante credi condivido con te ci sarà come dicevo prima il vecchio rapporto perché è sempre bello far vedere la propria casa perché bella o brutta che sia è la tua casa noi siamo proprio un polo produttivo che oggi con la nuova sede vada anche tanto alla rappresentanza ma rimaniamo un polo produttivo da noi entri senti i profumi del nostro mondo vendi le materie prime del nostro mondo la componentistica del nostro mondo ed è anche bello farla vedere come dici tu però dobbiamo imparare a usare una serie di nuovi strumenti che possono velocizzare tante operazioni che prima impiegavano del tempo dalla lontananza dalle famiglie per andare in Cina immagino quanto quanto tempo di viaggio e di lontananza delle tue quotidiane abitudini hai dovuto investire e poi hai scoperto che ci sono strumenti velocissimi per chiudere degli ordini proprio così in velocità zero proprio quindi guarda è bello veramente sentire una persona nel nostro settore che ha immagini vissuto benissimo come noi determinate situazioni e che ne vuole uscire con lo stesso spirito ecco questa è la cosa che mi fa veramente piacere sicuramente grazie a voi grazie grazie per questa per questa testimonianza per questo contributo vedo che c'è un commento in chat di Anna Villa complimenti per la semplicità determinazione sì sicuramente si vede che c'è una grande determinazione in quello che dite ed è proprio quello che stavo cercando di di sottolineare poi c'è Roberta che invece ci scrive come vi ponete verso i mercati internazionali pensate si aprano dei nuovi spazi in seguito appunto ai cambiamenti in corso noi abbiamo assolutamente gli occhi puntati verso l'estero la fiera di Colonia era appunto per noi il punto anche dove entrare in contatto con i nuovi potenziali distributori dei paesi in cui non siamo presenti noi continuiamo continuiamo a guardare credo che le opportunità anzi forse ne nasceranno ancora di più perché l'aver saputo essere presente in un momento di difficoltà probabilmente può averci messo più in evidenza rispetto ad altre aziende quindi l'esserci l'esserci con i prodotti corretti l'esserci con con la comunicazione che stiamo facendo secondo me assolutamente ci porterà degli ottimi risultati anche senza la fiera di Colonia di quest'anno che è stata rimandata ma anzi testando i sistemi che abbiamo che abbiamo li testeremo assolutamente quello che stiamo facendo sui mercati se c'è una cosa che ci stanno riconoscendo in tanti è proprio quella che adesso chiamano la reputation io la chiamo ancora volgarmente la reputazione nel senso che la mia azienda penso che abbia accostato sul mercato ancora più punti da questo punto di vista perché è riuscito ad assicurare un servizio in un momento veramente difficile questo è chiaro che ci ha stravolto ci ha stravolto anche mentalmente e fisicamente però guarda non c'è cosa più bella andare a letto la sera stanco morto ma senza pensieri negativi solo con pensieri però prima di andare a letto bisogna fare un webinar dopo otto puntate di baserie e ci facciamo anche un webit assolutamente ecco uno spunto prego Silvano sai uno spunto stavo pensando a Cristiano cioè l'attività di vendita no? la cosa interessante sarà che però mi chiedo quanto durerà la giornata lavorativa ecco bravo guardate che è un punto pazzesco hai detto una cosa verissima che adesso condivido con tutti allora io abito in provincia di Milano dicevo la vita a un chilometro da crema quindi 8 meno un quarto 8 meno 10 mi metto in macchina ascolto la tristissima radio del sole 24 ore che ti fa arrivare al lavoro già super depresso e all'ennesima sigaretta alle 8 e 10 scatta la prima chiamata e dici mamma mia cosa è successo anche oggi e così è fino a sera hai detto bene non ci sono più orari però da un lato magari prima le telefonate erano meno ma erano più difficoltose nella gestione oggi è un momento difficile la gente magari pretende di più ma capisce anche di più certe risposte perché sa che stai dando il massimo ma più di così oggi non puoi fare e quindi torno al discorso dell'empatia ha eliminato tante formalità e faccio un esempio Silvano io e te personalmente non ci siamo mai conosciuti grazie a questo strumento dovessimo trovarci in una fiera ci diamo del tu magari andiamo a berci una bibita un caffè insieme come se nulla fosse come se ci conoscessimo da una vita perché passiamo la nostra giornata nello stesso modo quindi per quello che ti dico che questi strumenti aiutano è vero che impegnano anche tanto hai detto bene quanto durerà la giornata lavorativa bella domanda beh sono le le dieci meno un quarto e ancora la giornata non è finita quindi si però questo è più piacevole questo è un lezio bravo questo è un lezio bravo questo è un lezio più piacevole assolutamente ma qui visto che abbiamo collegato un fan dell'empatia mi permetto di chiamare in causa anche Alberto che è anche lui un amico oltre che nostro gradito socio come anche Silvano perché Alberto hai visto quanto l'empatia abbia contribuito in maniera determinante nel successo nell'attraversare con successo questa fase per la UMD quindi penso che quello che tu dici da anni sia assolutamente un fatto importante no? sì l'empatia è quello che ci salverà in questo periodo e anche dopo e poi sentivo parlare di reputazione e la reputazione diventerà sempre più importante se pensate che Alibaba Giacomo ha puntato tutto sulla reputazione ha creato un'azienda incredibile tutto sulla fiducia e sulla reputazione quindi le parole chiave sono senza altra empatia reputazione e fiducia e io credo che questo sia quello che ci salverà beh questo è un messaggio positivo lo prendo come un bellissimo messaggio si tratta di farlo capire a molte persone che invece non hanno così chiaro l'importanza dell'empatia c'è qualcun altro che vuole ancora fare qualche commento? ok allora direi avviamoci verso i saluti tra l'altro Silvano hai attivato la webcam ma hai cambiato completamente look eh sì hai visto no perché questa è un'altra cosa positiva alla fine stai sempre a casa ho detto guadagno pure tempo lì perché farmi la barba e quindi un altro posizionamento nel tempo nel tempo in cui si fa la barba c'è il tempo per fare due chat e due chat e la chiamata internazionale quant'altro sicuramente esatto grazie Nicoletta grazie Cristiano avete dato una ventata di positività che devo dire cercheremo di mettere in evidenza anche come proprio come associazione italiana sviluppo marketing perché penso che uno dei compiti di un'associazione professionale come la nostra sia anche quello di portare dei casi concreti quindi non solo non solo teoria ma anche esperienze di vita esperienze veramente vissute sulla propria pelle in tutti i sensi che per fortuna danno risultati anche positivi quindi questo mi piacerebbe passasse su canali mass mediatici cosa che invece è molto difficile trovare sui nostri canali di comunicazione per adesso grazie di nuovo Nicoletta grazie Cristiano grazie a voi grazie buona salata buonanotte a tutti ciao ciao buonasera buonanotte a tutti 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 Grazie a tutti.